Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video oggi nuovo video ricetta degli iscritti troppo carino questo l'ho spacchettato nel video del uovo di Pasqua di Popatroll, andate a vederlo troppo bello, ho trovato lui il cagnolino e comunque oggi nuovo video slime con le ricette degli iscritti se volete che realizzi anche la vostra iscrivetevi incominciamo subito, lo slime di oggi contiene shampoo, bagno schiuma e un po' di sale, quindi partiamo subito mettendo lo shampoo io metto questo qui di InWin e appunto vado a metterne un bel po' l'ho praticamente finito poi aggiungo il bagno schiuma di Bottega Verde questo tra l'altro mi piace anche ok, aggiungo il bagno schiuma mi spiace sprecarlo per fare uno slime ma solo questo in casa, e poi aggiungo un pochettino di sale proprio un pizzico aspettate un pizzico di sale vado a girare e meschiare il tutto e vado a metterlo in frigorifero vado a metterlo in freezer per un quarto d'ora e poi ci vediamo ok grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.